Io non sono contento di quello che è stato l'ultimo risultato e di quello che è stato l'atteggiamento della squadra nell'ultima partita, di quello che è avvenuto dentro la squadra. Come non è contento nessun componente della società e come non è contento nessun calciatore della squadra. Però poi bisogna fare, tecnicamente si scrive, si dice zoom out, cioè si fa zoom in quando uno vuol tirare fuori una cosa che gli pare, focalizza una situazione e dice quello che gli pare di quella situazione. Poi però soprattutto in un campionato di calcio va fatto uno zoom out dove si va a prendere quello che è successo sempre e io mi sento benissimo nella situazione. Poi è chiaro che eravamo stati bravi a creare una chance importante e non siamo stati altrettanto capaci di sfruttarla. È un dispiacere che abbiamo tutti. Però poi se si fa zoom out e si guarda nella sua completezza, si guarda un grafico allargato all'intervallo temporale di tutta la stagione, io ci sto benissimo dentro questo risultato qui perché siamo ancora in lotta per la Champions e è quello che volevamo all'inizio. E ci siamo a quattro domeniche dalla fine in lotta per la Champions, per cui se uno la guarda nella sua completezza è una realtà dove noi ci si sta tranquilli di aver fatto quello che è il nostro lavoro. Insomma ecco, è fatto bene.